Bentornati su Balconi TV Sassari, io sono Laura e con noi Storie di altri tempi, ciao! Ciao Laura, ciao! Cosa ascoltiamo? Ascoltiamo Ultima! Benissimo, enjoy the show! Tuoi capelli bianchi possano incantarmi, raccontarmi di ogni singola ruba fatta senza di me Potrei pensarti in una nuda al mare, immaginarti ancora nuda Per bere e fumare puoi bere e parlare di me Potrei restare fermo, no, ma io fermo, non ci so stare Potrei restare fermo, no, e toccare forte le tue mani, ma quali mani? Sono solo mie fantasie, ma quali mani sono mie fantasie? Potrei pensarti ancora tra cent'anni, immaginarmi brutto e vecchio Con un capello scolorito e due anelli perdito Potrei pensarti ancora tra cent'anni e immaginare i tuoi vecchi tatuaggi Con la gonna rossa corta, quella che piace a te Potrei restare fermo, no, ma io fermo, non ci so stare Potrei restare fermo, no, e toccare forte le tue mani, ma quali mani? Sono solo mie fantasie, ma quali mani? Solo mie fantasie Potrei pensarti ancora tra cent'anni e immaginarmi il tuo rossetto Per raccontarti qualcosa di bello ancora non vedo Potrei pensarti ancora tra cent'anni e immaginare la tua grigia voce Per bere, fumare, puoi bere e cantare con me Potrei restare fermo, no, ma io fermo, non ci so stare Potrei restare fermo, no, e toccare forte le tue mani, ma quali mani? Sono solo mie fantasie Ma quali mani? Sono le mie fantasie Potrei restare fermo, no, ma io fermo, non ci so stare Potrei restare fermo, no, o toccare forte le tue mani, ma quali mani? Sono solo mie fantasie Ma quali mani? Sono le mie fantasie Ma quali mani? Sono solo mie fantasie Ma quali mani? Sono le mie fantasie Ma quali mani? Ma quali mani? No, ma quali mani? Sono le mie Grazie a tutti. Complimenti. Grazie. Allora, Luca, presentaci la band. Allora, alla chitarra, alla mia destra, c'è Gavino De Palmas, alla batteria Lello Pinna, al basso Antonio Doro. Aiuto! E qua seduto Saverio Cosimano. Ok, perfetto. Racontaci un po' del progetto. Voi siete una band di nuovissima formazione in realtà, però avete un trascorso già musicale passato. Sì, siamo una band di nuova formazione. Le storie d'alti tempi esistono dal 2013, dove l'attivo abbiamo anche un singolo carnevale al mare. E niente, siamo pronti per continuare. Ok, però parliamo un po' del progetto, perché in realtà, diciamo che siete di nuova formazione, però tu stai raccogliendo materiale già da un bel po', perché insomma racconta la storia un po' della tua vita e un po' di chi hai incontrato i testi delle tue canzoni. Sì, esatto. Sono storie di altri tempi e di altre persone. Sono tutte storie vissute sulla mia pelle, vissute sulla mia persona. Le cose mi hanno affascinato da un po' di anni a questa parte, diciamo. Ok, hai deciso di buttarle in musica. State componendo un album, quindi tutto questo finirà presto in un album, giusto? Sì, assolutamente sì. Siamo a lavoro per il nuovo album e altri nuovi videoclip. Ok. Qualche appuntamento, qualche data da segnalare? Sì, allora, la prossima data è l'8 luglio al Tropicar, a Porto Torres, per un aperitivo. E poi il 22 luglio siamo ospiti a Roted Moon, un festival di teatro, musica e... Arte. E niente, è arte, è giusto. A Castel Sard. A Castel Sard, esatto. Ok. Benissimo, ragazzi. Un'ultima cosa, se volete darmi un sito o una pagina dove vedere appunto tutte le date e altre informazioni, videoclip. Sì, la pagina Facebook e Instagram Storie di Altri Tempi. Benissimo. Ragazzi, io vi ringrazio, vi faccio ancora complimenti e un grosso in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille. Da Balconi TV di Stasera di Tutto, io sono Laura, Storie di Altri Tempi. Grazie mille.